La famosa gioconda ritratta da Leonardo da Vinci ha soggiornato a Vigevano? Secondo alcune teorie sì, e ora andremo ad analizzare il perché si ipotizza questo. Ebbene, dovete sapere che tantissime coincidenze fanno pensare che la Mona Lisa in realtà non si tratti di Lisa Gherardini del Giocondo, bensì di Isabella d'Aragona, moglie infelice del duca Giangaleazzo Sforza e secondo alcuni amante del genio di Vinci. Ma allora andiamo ad analizzare i dettagli che confermerebbero la teoria. Mona Lisa rimase vedova nel 1538. Leonardo morì nel 1519. Strano rappresentare una donna col marito ancora vivo con quell'abito. Più probabile che si tratti di Isabella, la quale Leonardo vide la vedovanza. Un particolare su tutti, l'orlo dell'abito. In effetti, se accostiamo quest'ultimo allo stemma della casata Aragona Sforza, notiamo che è praticamente identico. Leonardo non consegnò mai il ritratto al committente, portandolo con sé in Francia e lasciandolo in eredità al suo allievo. A quanto pare, quel volto le era molto caro. Un anonimo artista dipinse qualche anno prima Isabella d'Aragona. Notate nulla di strano? Insomma, le coincidenze non mancano per far pensare che la Gioconda in realtà era Isabella d'Aragona. Ma torniamo a noi. E allora, perché all'inizio abbiamo affermato la Gioconda è stata a Vigevano? Perché Isabella partorì la sua primogenita, Bona Sforza, proprio a Vigevano, passando così più di qualche giorno nella nostra città. Potrebbero essere tutte teorie, oppure fantasia per alcuni, ma le coincidenze non mancano. E ci fa piacere pensare che il quadro più famoso del mondo rappresenti una donna che calpestò il terreno vigevanese. Grazie. 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 Grazie.